Non c'è pace per la Chiesa Cattolica. Papa Bergoglio ha parlato e parla chiaro senza lasciare spazio a incomprensioni. I pedofili della Chiesa ci sono e li stanno scovando uno per uno, cacciandoli dal Tempio non solo come sepolchi imbiancati, ma come esseri spregevoli che dalla casa di Pietro non possono essere accettati. E dai pedofili ai corrotti, a coloro che frequentano le Chiese, in nome di una non meglio identificata fede utilizzata esclusivamente per mettere insieme affari loschi fuori da ogni margine della rettitudine e della legalità. E il papato di Francesco non lascia nulla al caso e il pontefice venuto da lontano vuole stirpare la gramigna che da troppo tempo si annida tra le mura del Vaticano e non solo. In tutto il mondo si cercano coloro che hanno disonorato e disonorano i valori del cattolicesimo. L'arcivescovo di Palermo ha parlato chiaro applicando le regole che il Papa ha dettato e ora toccherà anche alle confraternite, milioni sparse per il mondo e migliaia nel bel paese dove il ripulisti è già iniziato con un'azione proprio dell'arcivescovo siciliano che ha chiesto per l'ingresso e la permanenza in una confraternita del certificato penale e di carichi pendenti, nonché la certezza che gli aderenti non siano massoni, ricordando che la Chiesa condanna le associazioni segrete come chi delinque. E' il nuovo corso di Papa Bergoglio che va avanti e che farà certamente pulizia non soltanto in Sicilia ma in tutte le regioni italiane.